oh ah che parrucchiamo e fai un giaccio ragazzi eh? oh ma tu sei laureato? eh io ho due lauree eh eeeh ha due lauree e perché sei un scema? faccio scema ah boh perché faccio scema vabbè faccio scema faccio scema perché perché alla fine tu studi o studi o studi guarda fammi una ti piace? studi o studi o che fai alla fine? fai quello che non puoi fare no studi per fare quello che vuoi fare se no che bella vita che fai eh scusami tu perché studi? uno studi perché poi vuole fare quello che fa fa quello che vuole fare ho fatto la scuola materna l'asilo e gli elementari le medie e le superiori all'università così mi son diplomato mi son laureato sono cresciuto ho sempre studiato specialisti specialisti castelli sempre sopra ma seggi masterclass dottorato ma perché ho studiato c'ho tanti anni mi sono scordato voglia scivurir ragazzi no sto a scendere no oh